ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda questi fatti per il black friday quando riguarda altri tipi di sconti ve li ho riuniti perché volevo fare un video proprio tutto di sephora ebbene sì ho fatto degli acquisti da sephora ma che riguarda un solo brand proprio infatti ve l'ho messi tutti qua dentro riguardante black friday e altre altre cose infatti l'ultima l'ho presa che mi è arrivata una settimana fa perché volevo parlarvi solo di un brand per quanto riguarda sephora e vi faccio vedere cosa ho preso vi faccio sbirciare proprio così allora vi dicevo che uno di queste cose mi è proprio arrivato ieri e dovrebbe essere sì questo quindi vi faccio vedere allora andiamo dall'inizio per prima cosa ho preso questo che è il primer cioè tutte queste cose racchiudono tutti i prodotti di fenty beauty ho voluto provare alcune cose le ho prese con i prezzi sexy alcune cose le ho prese con il black friday questo l'ho preso con il black friday ho preso questo primer perché finitura perfetta è levigata comunque un primer viso nella colorazione soft mart ma credo che sia l'unica dicono che levita tantissimo il viso siccome voglio prendere il fondotinta con cioè non lo sto provando perché mi hanno dato un mini campioncino quindi lo sto provando se mi piacerà lo prenderò questo è il packaging esterno questo è il packaging esterno e vetro se non mi sbaglio sembra di sì che sia vetro comunque una plasticatura comunque mi piace tantissimo perché tipo color carne molto molto carino e molto chic come io vedo la sagoma spero che non si veda comunque mi piace tantissimo e quindi lo volevo provare ho sentito svariate recensioni quindi che fanno nella prendi la mia ovvio poi oltre il primer ho preso la famosissima cipria questa qui che la fenty beauty by ryan ed è la profil 3 filter ed è questo questo è il packaging della cipria e ho preso la batter color burro vi faccio vedere questo ovviamente quella piccola proprio in mini size vedete questo è il packaging non l'ho aperta perché ovviamente devo finire le altre a un puff piccolino un buffettino piccolino e poi a questa questa è la cipria questa poi la utilizzerò e vi farò sapere io sono molto molto curiosa di provarla perché dicono che sia ottima e quindi la curiosità mi assale preferisco prendere la versione piccola così da provare i prodotti questi li ho presi con i prezzi sexy infatti qua c'è scritto proprio prezzi sexy ho preso questo trio per quanto riguarda sempre dai rihanna perché stiamo parlando di rihanna e ho preso la versione light 100 questa è la parte diciamo più chiara di tutte e tre perché c'erano tre versioni e ho preso la parte chiara infatti è la light 100 dove c'è l'inen il correttore una terra è un illuminante credo che sia starbucks ed è questo questi sono i tre prodotti e mi piace tantissimo il fatto che sia questo formato il fatto anche che si attaccano l'uno all'altro ed è molto molto carina come cosa ve li faccio vedere questo è l'inen dovrebbe essere il correttore ed è questo qua ed è questo correttore poi è la sedia non non avete paura è la sedia poi starbucks starbuck 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 e cos'è quello del del caffè sono mi sbaglio starbuck starbuck e sarebbe l'illuminante ed è questo colore qua e poi mamma mia sta sedia che palle e poi ho preso il metto più vicino così ho preso amber cioè ho preso ho trovato amber che sarebbe il il bronzer lo vedete scurissimo ma non è così scuro applicato perché poi l'ho visto la e non è così scuro applicato ovviamente lo devo provare ma prima devo imparare a mettere la terra per fare il bronzing e poi vi farò sapere mi piace tantissimo il fatto che si attaccano l'uno all'altro ed è una cosa molto bella specialmente da mettere qui nella postazione poi andiamo avanti vi ho fatto vedere le tre composizioni per quanto riguarda questi kit by fenty a me piacciono tantissimo li trovo molto utili e specialmente riuscite a provare i prodotti anche se sono in mini taglia allora la prima che vi faccio vedere così guardo l'ultima uscita che la prima che faccio vedere questa per quanto riguarda il il bronzer infatti troviamo mini bronzer set dove c'è sun stalker e per quanto riguarda il terra e poi abbiamo il match stick che è un shimmer stick adesso vi faccio vedere comunque il nome è questo ve lo faccio vedere il nome così sapete benissimo di cosa sto parlando e il set in questione è formato da questi due prodotti dove c'è il mini stick quindi la parte piccolina e c'è questo che è un è uno shimmer ed è questo qua e poi dove c'è la parte della terra questo è il packaging questo qui il packaging dove già ci sono le mie ditate e questa è la terra ovviamente c'è uno specchietto e questa è la terra questa è la terra questa qua quindi credo che sia ottima per il mio colorito la proverò ovviamente vi farò sempre sapere se mi piace o non mi piace io credo che sia ottima come idea così riesco a provare il prodotto se non mi piace mi rimane questa questa cosa piccolina da utilizzare così anche come ombretto da sfumatura l'altro set è questo dove troviamo il mini lip and face che sarebbe questo qui e poi il highlighter che sarebbe questo qui nella colorazione suncastle e sweet mondo questo vi faccio vedere non vi faccio gli swatch perché vi rimando al mio instagram perché lì troverete tutti gli swatch il mini lip gloss è questo bellissimo come tutti gli altri molto molto bello devo dire che io lo metto nella borsetta l'ho anche utilizzato in un ultimo dei miei video quello per quanto riguarda il makeup realizzato per single opera quindi makeup anni 80 e poi c'è questo che è un illuminante si chiama sand castel ed è questo bellissimo colore guardate qua che colore aspettate questo è il colore molto molto bello veramente molto molto bello poi quando farò quando la mia amica farà il montaggio è tutto se vedo che ci stanno bene gli swatch ve li faccio nel senso ravvicinati perché il fatto che mi sposto con la sedia fa rumore sinceramente mi dà un po fastidio l'ultimo che vi faccio vedere è l'ultimo arrivato questo l'ho preso appena l'hanno messo online perché vado spulciando le cose mini size quindi le taglie da da portarsi in giro e ho visto che c'era questa che era uscita proprio da poco dove c'è il dia diamond bomb che sarebbe l'illuminante che sarebbe questo qui e poi c'è il gloss bomb l'ultimo quindi mi piaceva averlo ed è questo il nome del del set e vi faccio vedere che stupendo e questo set questo è il lip per quanto riguarda la mini size proprio stupendo lo metterò in borsa anche questo come l'altro e poi la parte stupendo di questo set è questo questo illuminante che è veramente luce propria cioè mettetevi gli occhiali avete messo gli occhiali sicura rischiate a rischiate e questo è il illuminante bellissimo guardate che luce guardate guardate che luce guardate avete visto è stupendo veramente stupendo c'è luce propria io vi acceco vi metterò la sera per per sbrilluscare dappertutto veramente fantastico mi piace tantissimo bene questo è tutto per quanto riguarda acquisti fatti da sephora che acquisti fatti sia per il black friday per il la parte dei prezzi sexy e vi ho raccimolato tutto per fare un video direttamente di fenty beauty e io adoro questi prodotti adoro anche il fatto che siano fatti in mini size quindi da provare se non ti piacciono niente non è speso tanto e li puoi anche regalare sono piccolini li fai contento diciamo le amiche sorelle eccetera eccetera io per questo video vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciata se va ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao